Grazie, profondità, altruismo e visione. Io penso che siano questi i valori che associo al concetto di inner beauty. Sono Stefano Boeri, sono un architetto, vivo e lavoro a Milano. Quello che facciamo essenzialmente è progettare architetture verdi, dove le piante, gli arbusti, sono non una decorazione, ma è una componente essenziale dei nostri progetti. Io credo che le città vadano pensate come degli organismi, come degli organismi viventi, dove insieme agli alberi, alle piante, gli umani, i volatili convivono e questo deve essere un modo nuovo di pensare all'ecologia urbana, alle città come ecosistemi. Dobbiamo in qualche modo guardare il futuro sapendo che ci sono alcune grandi sfide delle nostre città. Le città sono le maggiori produttrici di andride carbonica, cioè sono la prima causa del surriscaldamento globale del pianeta. Dobbiamo fare tutti insieme un passo che dia l'idea di una vera trasformazione del nostro modo di abitare questo pianeta. Quindi la sfida del surriscaldamento globale è una sfida che abbiamo vissuto come un'opportunità straordinaria per migliorare la nostra vita su questo pianeta. Grazie a tutti.